buonasera a tutti e bentornati sul mio canale questa sera una serata tesistima con barbara balanzoni che moltissimi di voi seguono conoscono mi hanno richiesto e quindi è un onore per me poterla intervistare poterla portare sul mio canale la faccio entrare subito è inutile che aspettiamo eccola ciao ciao grazie di essere qui stasera a te grazie a te allora senti tu sei laureata in legge giusto anche ok sei una figura tra le più ambite credo in questo momento storico perché sei in grado di confrontarti sia con il delirio legato alla sanità di questo momento e sia con l'aspetto dei vari dpcm e insomma regole che ci vengono proposte quindi per questa ragione oltre a essere anche una persona superattiva giovane quindi attiva anche sui social e quindi dai modo a molti di seguirti hai una serie di competenze che non sempre sono riunite in una sola persona e questo penso che per te sia un incubo perché ti chiederanno di tutto e di più immagino e tra l'altro oggi è l'anniversario della mia laurea in medicina 26 ma dai del 1999 mi laureavo quindi oggi ho messo su nei ricordi del mio stato su whatsapp ho scritto maledetto quel giorno cioè giusto così per dare la misura Grazie Qualcana Allora 書angen